Buonasera a tutti e bentornati. Buonasera a tutti e bentornati al consueto appuntamento quindicinale con questa trasmissione che Radio Sayuz mette a disposizione del sottoscritto. Come dice il titolo della trasmissione, il coronavirus è il granello che fa inceppare questo grande sistema che sembrava perfetto, che sembrava intoccabile, che sembrava non dover più, forse il top del modo di produzione umano. Ebbene, vediamo un po' la questione. Da quando l'uomo è uomo, quindi Homo sapiens sapiens, ha avuto sempre bisogno di mangiare, di bere, di abitare, di vestire. In pratica, ho un vero sistema di produrre queste merci per soddisfare questi bisogni. Ebbene, con l'andare da quando siamo uomo sapiens sapiens ci sono succeduti delle rivoluzioni di modo come produrre. Siamo passati da un'epoca schiavista a un'epoca feudale e adesso stiamo vicendo questa epoca di produzione capitalistica. E' chiaro che chi detiene il potere oggi con questo sistema dice che questo è il migliore, è impossibile, che il plus ultra non c'è possibilità di andare oltre a una organizzazione sociale di produzione diversa. Ma invece c'è chi come sottoscritto, ma non è perché lo dico io, è perché prima di me altri hanno analizzato questa società, la società capitalistica e vedono che è una transizione per arrivare a una società futura, dicono che questa non è la società migliore e ne ha sempre studiato le contraddizioni. Ecco, il coronavirus sta dimostrando una grandissima contraddizione del sistema. Una delle prime cose di contraddizione di questo sistema è l'agire individualmente. Cosa voglio dire questo? Perché ogni azienda produce in modo autonomo, cerca di accapararsi il mercato di altre aziende che producono lo stesso prodotto in modo da accapararsi il mercato. Gli stati difendono gli stati difendono gli interessi delle borghesia, che sono i grossi gruppi industriali, che ci sono all'interno di un territorio con dei confini, tra l'altro confini che non sono dati dalla natura, ma sono dati proprio da contrasti di questo genere per governare un territorio. Ebbene, questo fa sì nel sistema che ci sono tutti i nemici, non c'è una sinergia, c'è un'organizzazione pazzesca all'interno delle fabbriche, dove tutto deve essere organizzato dalle merci che entrano in magazzino, alla produzione tutta organizzata al millimetro per ridurre i tempi, ridurre lo spreco, ridurre le energie per produrre questo prodotto e poi viene immesso nel mercato e questo mercato è anarchico, non c'è una organizzazione del mercato nel senso di questo prodotto serve alla collettività, quanto ne serve, come serve? No, prima di iniziare a produrre, normalmente si fa una statistica, viene fatta una statistica, un sondaggio di mercato per vedere quanto questo prodotto può essere più o meno accolto dal mercato, poi ci pensa la pubblicità, farci venire il bisogno e non solo pubblicità, ma anche attraverso sistemi di imposizione, tu devi adoperare, tu come consumatore, devi consumare quel determinato prodotto. L'esempio più banale che viene a mente adesso è che una volta avevamo le cabine telefoniche per telefonare e le cabine telefoniche sono state eliminate e quindi tutti abbiamo il nostro cellulare individuale, perché individualmente si producono più cellulari anziché avere le cabine che erano collettive, così come il fatto di avere la macchina una volta, una per famiglia, poi si è passati a averne più di una per famiglia, adesso ne abbiamo una quasi per persona, è chiaro che i mezzi pubblici sono stati penalizzati in modo tale che sentire il bisogno dell'auto. All'interno della fabbrica viene tutto ben organizzato, ma è sul mercato, questo mercato che è anarchico, dove si svolge lo scambio, si svolge la valorizzazione, quanto è costato il prodotto, viene venduto a prezzo più alto in modo tale da essere il capitalismo remunerato, aveva un profitto, in realtà chi ha prodotto quella merce ne ha avuto come ritorno economico minore di quello che poi costa sul mercato, ma questa organizzazione è un'organizzazione di fabbrica, non è un'organizzazione sociale, è un'organizzazione di un sistema di produzione. Allora torniamo al coronavirus, il coronavirus scoppia in Cina, per quanto se ne dica che è una società cinese comunista, non è vero, è capitalismo di Stato bello e buono, scoppia questo virus, il quale per paura di perdere i mercati, le commesse, il profitto etc., si aspetta del tempo per denunciare questa situazione, addirittura si va ad incriminare il medico che attraverso il sistema social metteva in allarme i suoi colleghi medici, veniva incriminato per tentato allarme. Anziché agire subito, si è atteso, poi cos'è successo? Il governo cinese dice attenzione, da domani si chiude il territorio dove era scoppiata questa epidemia. Abbiamo visto una fiumana di persone che abbandonavano la città di Wuhan per tornare verso casa, verso i posti, quindi si è dispersa il virus nel territorio, ma gli altri paesi, ognuno interviene in modo proprio e in modo anarchico, anziché prendere le misure del caso, aspettano, l'Italia aspetta che dopo 15 giorni, quindi abbiamo avuto dei contagiati anche noi, però gli altri paesi, la Francia ha aspettato 15 giorni di vedere come è successo in Italia, la Spagna una settimana dopo, l'Inghilterra addirittura si va a teorizzare la pandemia di Grecia, la possibilità a tutti di prendere questo virus, poi chi vive e vive e via dicendo. Ecco, se ci fosse un'organizzazione, attenzione come spiego, un'organizzazione mondiale che avesse dei poteri e non avesse come fine il profitto, ma il proprio fine, quello della specie umana che deve affrontare come specie, molte volte avrà, ma in futuro, ma comunque sempre, nel difendere la specie umana oggi come pandemia, ma può essere anche l'inquinamento, può essere anche una catastrofe data dalla natura, perché la natura noi adesso la mettiamo sopra tutto, torniamo alla natura, non è vero, la natura a volte ci è nemica e quindi bisogna anche saper affrontare come specie queste catastrofe o le catastrofi che la natura nel suo corso può fare, proprio per evitare l'estinzione della nostra specie, perché noi come specie umana siamo insignificanti nel globo dell'universo, che ci siamo o non ci siamo non è rilevante per il moto dei pianeti, non è rilevante per l'universo che si espande e via dicendo, quindi siamo quasi un nulla, anche a volte senza dire quasi, siamo un nulla, per cui dobbiamo difenderci contro queste forze enormi, allora ci difendiamo come specie o altrimenti soccombiamo, quindi il problema è quello che non esiste un'organizzazione, la possiamo chiamare anche un partito, di specie che faccia gli interessi della specie, non gli interessi particolari di un gruppo, gli interessi particolari di una nazione, perché chi ci divide in azienda, in nazione, ha gli interessi economici sotto, perché noi ci guardiamo, noi ultimi che non abbiamo il potere, ci guardiamo in cagliesco uno con l'altro, perché così ci governano meglio. Quindi attenzione, altra cosa, durante il coronavirus, adesso si sta parlando, i governanti stanno parlando di creare uno scudo antiscalate di aziende in crisi, cioè che il capitale di straniero o di un'altra azienda possa acquisire aziende nazionali, il padrone che parli inglese o che parli francese o che parli italiano, sempre il padrone è, governa sempre nello stesso modo, però è come dicevo prima, ognuno guarda il proprio orticello, ma questa vuol dire, guardare il proprio orticello vuol dire proprio la fine della specie umana, dove il nemico è quello a fianco. Altra cosa che questo virus sta dimostrando, che c'è una specie di socializzazione in questo periodo, dove per esempio si danno dei soldi per sostenere i consumi, per sostenere effettivamente anche le persone che non hanno reddito, attraverso dando dei soldi, ma viene meno il principio di questa società, dove in cambio della prestazione di lavoro per un determinato tempo, ti viene dato un salario. Bene, adesso ti danno dei soldi, non lo chiamiamo salario, potremmo chiamare anche il reddito di cittadinanza prima, adesso possiamo chiamare anche il reddito di coronavirus, o come si chiama Salva Italia, però viene meno, ti danno dei soldi in cambio di niente, non in cambio del tempo che tu dai per la tua capacità lavorativa a qualcuno. Quindi si sta creando una sorta di cose effettivamente strane, non sei più capitalismo, stai andando verso qualcosa che non è più quello che tu dici di essere, ma quanto può durare questa cosa, quanto può elargire lo Stato capitalistico che si basa sul profitto, sui soldi, quanto può durare questo sistema, o cade sotto il peso dei debiti che si stanno facendo, non solo, ma questa crisi sta dimostrando che non è come vanno a dire, tutto tornerà come prima, non è vero, tutte quelle aziende che ne hanno approfittato per mandare in smart working i lavoratori e vedono che ne avranno, ne hanno dei risparmi, non si torna indietro, assolutamente non se ne torna indietro. Quindi come dicevo prima, c'è bisogno di una organizzazione diversa, un'organizzazione di specie, un partito di specie, tant'è che molti intellettuali che non sono come mi ritengo io un comunista, anche se un comunista per me è una cosa molto importante, quindi penso di esserlo, ma forse a volte non lo sono fino alla fine, anche questi, anche degli intellettuali si stanno ponendo proprio effettivamente questo problema di avere un'organizzazione mondiale che abbia a cuore l'obiettivo della specie. Loro non parlano, questa è un'intervista fatta apparsa ieri il giorno 5 aprile domenica sul Corriere della Sera, una intervista fatta a telefono da New York a Fare Ed Vaccaria, analista della CNN e massimo esperto di geopolitica nell'età della globalizzazione, appare sul Corriere questa intervista e ve la consiglio. lui parla di grandi potenze che debbono mettersi d'accordo, grandi potenze, ci sono grandi interessi sotto e quindi le grandi potenze o si dimenticano di essere rappresentanti di una borghesia che ha dei interessi nazionali, interessi locali o altrimenti non sono più quello che dicono di essere con il sistema o altrimenti non lo sono più, è qualcosa di diverso. Una domanda è questa, il fan al giornalista, lei indica però una strada, quella della cooperazione, in primo luogo tra Stati Uniti e Cina, che al momento non sembra praticabile. La risposta del commentatore della CNN è questa, è vero, la cooperazione globale è al collasso e gli USA, tradizionali leader e organizzatori di questi sforzi hanno abdicato il loro ruolo, ma una strategia contro la crisi della pandemia potrebbe funzionare solo se America, Cina e nella combinazione ideale l'Unione Europea cominciassero a coordinarsi, per esempio il divieto di viaggiare come misura di contenimento avrebbe dovuto essere preso insieme, per evitare gli intasamenti agli aeroporti che hanno contribuito alla diffusione del Covid-19. Cosa è? Ancora se vogliamo mettere la gente al lavoro per far ripartire l'economia globale, va fatto insieme, conosco imprenditori di New York che non riassumono, che non riassumono, non riassumono più persone perché la loro domanda è in Europa, poi bisogna creare consorsi internazionali per mettere insieme risorse per la ricerca sul vaccino anti Covid-19, eccetera, e continua così. Quindi anche sull'intellettuale viene avanti sempre più l'idea che c'è bisogno di una cooperazione, di un mondo che non è più concorrenziale, di un mondo coordinato, quindi si va verso a quell'idea del comunismo dove c'è un'organizzazione che, scusate il misticcio di parole, coordina la produzione umana per soddisfare i bisogni umani in armonia con l'uomo e l'ambiente. Abbiamo molto tempo, perché stiamo in casa, di riflettere anche su questo. Vi invito assieme anche a me a pensare a questo, altrimenti vorrebbe dire aver fallito come specie. Grazie di avermi ascoltato, ho finito il mio tempo, ringrazio come sempre Radio Science di avermi dato questo spazio e a ricentirsi alla prossima. Ciao a tutti!